I sociologi americani hanno ampliato il significato di un verbo per definire la loro condotta. Grooming, tradotto letteralmente, vuol dire prendersi cura, intrecciare un rapporto di prossimità con un altro essere vivente. In senso figurato, invece, indica tutto il corredo di piccoli rituali e pretesti messi in atto da uomini adulti per adescare minori. Le barriere fisiche non costituiscono un limite. I bambini vengono contattati su qualsiasi piattaforma sociale o virtuale, da Facebook a Instagram. Si usano profili falsi, di solito, di adolescenti del sesso opposto al minore da adescare. Si cerca di carpirne la fiducia. Lo scopo è quello di farsi inviare scatti o video dal contenuto esplicito, un fenomeno diffuso in maniera capillare che solo nel 2013, secondo l'Istat, ha determinato l'individuazione e la denuncia di 744 detentori di materiale pedopornografico. L'ultima operazione, denominata Anime Bianca, risale al 4 dicembre scorso. Coordinate dalla Procura di Siracusa, le indagini hanno portato gli esperti del nucleo investigativo telematico sulle tracce di una vera e propria rete di scambio di materiale pedopornografico con segnalazione effettuata in 14 regioni. Gli indagati hanno un'età media di 45 anni e appartengono a tutte le categorie sociali, operai ma anche professionisti, militari, fotografi, impiegati, imprenditori e commercianti, perfino uno degli addetti alla gestione della rete informatica della Procura di Catania. Nelle maglie dell'inchiesta finiscono anche due calabresi, un 32enne arrestato al Reggio Calabria dagli agenti della Polizia Postale e delle comunicazioni della Calabria. In seguito all'analisi di sport informatici in possesso dell'uomo, gli agenti si imbatteranno in oltre 10.000 file tra video e foto con immagini dal contenuto esplicitamente pedopornografico. Il giovane è stato arrestato nella più rosa improbabile delle prospettive una volta affrontato il processo ed escluso le attenuanti. Potrebbe essere punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa non inferiore a 1.549 euro.